Ciao a tutti carissimi amici ben ritrovati sul canale oggi continuiamo con quello che sono ciao a tutti carissimi amici ben ritrovati oggi continuiamo a presentare il lavoro relativo a quello già presentato la scorsa volta ciao a tutti amici ben ritrovati sul canale oggi continuiamo a presentare il lavoro relativo a quello che... no ciao a tutti carissimi amici ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati allora guardatevi il video io non riesco a parlare oggi guardatevi il video spero che vi piaccia mettete solo like ciao a tutti 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 ciao a tutti